Ciao a tutti amici di Medivino! Ciao amici di Medivino! Siamo qui ancora con Cristian e oggi per voi assaggiamo un vino del Veneto, azienda Begali Lorenzo e a ripasso di Val Policella 2011, 13 gradi e mezzo. Il ripasso è diciamo il vino Val Policella quindi Corvina, Molinara e Rondinella come vitigni che viene ripassato sulle bucce dell'Amarone che sta fermentando quindi per prendere un po' di struttura. Allora direi che stiamo parlando di un vino rosso un vino limpido e con una buona consistenza. Assolutamente sì. Naso, al naso sentiamo subito la ciliegie che ci viene bella e imponente, molto intensa e rimane anche nel naso questa persistente, la rossa. Il naso inizia a ricordare infatti per il corso del ripasso anche un po' all'Amarone, ti aspetta un po' di struttura. Esattamente, questi bei frutti rossi anche. Sentiamolo al gusto. Secco, caldo, piacevole davvero, morbido. Morbidissimo. Questo equilibrio con i frutti rossi nel naso e questa pseudo quasi dolcezza. Sembra... Non si diceva il rosso, in questo caso, ma si sembra che noi lo diciamo. Piacevole, molto piacevole, molto piacevole. E' già molto equilibrato questo vino qui, nel senso che è nel 2011, però è già pronto da bere a 14-16 gradi. Lo serviamo? Lo serviamo a 14-16 gradi. Direi che sei coso dei due cosa. Allora, direi che arriviamo ad un primo strutturato, tipo, direi di cannelloni al forno, ripiedi, becciamela, molta, una bella roba strutturata, e prosciutto cotto. Amici che vedi il vino! Ciao! Ciao!